Completamento di Piazza Castello c'è il parere positivo della sovrintendenza per lo sblocco dei lavori che restituiranno nella sua totalità l'agora del Teatro Gesualdo. Era un disco verde atteso da quasi due anni che ora può rappresentare la svolta per il centro storico avellinese. Finalmente non vedevamo l'ora, abbiamo puntato su questa piazza e speriamo che diventa sempre più vitale, un punto sempre più nevralgico e importante della città. Avere l'ingresso di una città in quelle condizioni è stato catastrofico per chiunque. Ci sarà più gente, più parcheggio, più movimento, sì, per il quartiere è ottimo, ottimo. È molto importante soprattutto per i commercianti della zona, aspettavamo con ansa questa notizia. La piazza seppur parzialmente riaprì dopo nove anni nell'aprile 2021, nel 2012 la scoperta di rifiuti interrati nella Gorà, poi sequestrata nel 2014 e la mancata bonifica per la quale sono stati anche condannati alcuni amministratori comunali. Anni di transenne e teloni neri nell'abbandono del centro storico con decine di commercianti costretti a chiudere le attività. Adesso si prova a chiudere un altro capitolo delle incompiute di Avellino. Direi che è stato un vero e proprio bagno di sangue dal punto di vista commerciale. Molte attività purtroppo sono chiuse, hanno resistito un po' di attività, non tante, ma c'è stata una sofferenza dal punto di vista commerciale enorme. Vedere poi una piazza così storica per noi avellinesi, circondata, piena di spazzatura, non certo è una cosa bella. Speriamo che si riprenda velocemente in modo tale da dare un po' di rivalutazione anche alle nostre attività.